E' un'altra parte di questo meraviglioso prodotto, solo per oggi ordina subito Extra Flute Pro. E riceverai in omaggio un secondo Extra Flute Pro, più un set di pentole professionali. Di addio alle mille champusagne ordinate da Siti Truppa, come lo store ufficiale di Massimo Pericolo. Extra Flute Pro ha la soluzione per tutti i tuoi problemi. Per ogni tasto è presente una funzione speciale. Tasto 1, dimagrire. Tasto 2, teletrasportarsi. Tasto 3, evocare i morti. Tasto 4, correre più veloce. Tasto 5, sconfiggere in mano. Tasto 6, resuscitare. E per finire, un tasto bonus per chiamare la guardia di Finanza. Abbiamo intervistato alcune persone che hanno realmente provato Extra Flute Pro e ne hanno tratto dei grandiosi vantaggi. Ciao, mi chiamo Carlo Marcucci e oggi volevo parlarvi di Extra Flute Pro. Grazie a questo meraviglioso dono del creato, sono riuscito a dimagrire in maniera istantanea e truffaldina. Ho sempre cercato di dimagrire e perdere un po' di massa grassa, ma non ci sono mai riuscito. Davvero, ho provato ogni sorta di allenamento e rito satanico senza ottenere alcun risultato. Questo perché non capivo, non capivo che la chiave di tutto è solo una, Extra Flute Pro. Io vi consiglio vivamente di provarlo se, come me, sognate un fisico da Luis e una mascolinità tipica di chi viaggia con i fari anabbaglianti sempre spenti. Provate Extra Flute Pro, vi cambierà la vita. Ciao, mi chiamo Cesare Paciotti e oggi vorrei parlarvi del fantastico, mirabolante prodotto chiamato... Aspetta, com'è che si chiamava? Tipo Trade Apple... No, no, aspetta, forse... Forse era tipo... Extra Vergine... Ah, ecco, Extra Flute Pro! Grazie a questo meraviglioso utensile, sono riuscito a realizzare il sogno della mia vita. Ovvero, andare a Budapest senza alcun motivo valido. Oh, ma sei Cesare Paciotti? Sì. Possiamo fare una foto? Certo. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. Come vi dicevo, sono riuscito a realizzare il mio più grande obiettivo. E tutto ciò, solamente grazie a Extra Flute Pro. Provatelo, non ve ne pentirete. Chi? Ehm, eh... C'è vero? C'è vero? C'è vero? ciao mi chiamo mike cucumber e quest'oggi vorrei parlarvi del mitico prodotto chiamato extra flute pro grazie ad esso sono riuscito a rivedere dopo tanto tempo il mio amico devunto con lui ci ho passato la mia intera infanzia se solo penso a tutte le volte che ci hanno segnalato per uso di hack su csv che nostalgia non esiste un altro prodotto del genere sul pianeta terra e io ho la fortuna di averlo tra le mie flaccide e inutili mani è stata una gioia immensa davvero e pensare che tutto questo è possibile solo acquistando extra flute pro ciao io sono lille fruttolo sono in questo stato perché una volta volevo parcheggiare in un posto riservato ai disabili ma non ero ancora disabile così mi sono sparato sulle gambe ahahah lol tuttavia da quando sono in questo stato non riesco più a correre come prima e questa situazione mi rende davvero triste e demotivato così su due piedi vi dico che sono sull'orlo del fallimento meno male però che extra flute pro ha fatto un miracolo grazie ad esso ora sono in grado di correre più veloce di tutti persino più veloce di quei bastardi dei corrieri infami mannaggia a loro mi raccomando fate come me provate assolutamente extra flute pro mi raccomando fate come me provate assolutamente extra flute pro mi raccomando fate come me provate assolutamente extra flute pro mi raccomando fate come me provate assolutamente extra flute pro mi raccomando fate come me provate assolutamente extra toilets questo tasto non funziona a insomma cosa aspetti ordina subito extra flute buonasera la chiamo per quanto riguarda extra flute pro ho visto il vostro spot e mi piace davvero un sacco pronto pronto mi sente mi sente mi scusi pronto mi sente tu sai come si regola l'esposizione eh aspetta mi amico io io tu che ti muoverai ovviamente no mi piace che si vedano gli occhi nello specchietto che cazzo face mi vedo la bocca è veloce ok c'è con la con la bocca ma possiamo fare la scena cesare rispottando